A tutti gli ospiti di questo domenica pomeriggio, le loro canzoni sono grandi, mi suono, non sono disforzato e con il messo a piacere ti ripresento... I PRADERS! Grazie a tutti ragazzi, grazie a voi per essere qui in questo pomeriggio alla studio azienda ed è una cosa che dice Ravelli, l'ultimo è sempre una... qui vedendoci, sono la prima, c'è quello l'ultimo, guarda bene, non vedete, non vedete però comunque noi che siamo stati qua per la prima volta, un anno perso stato, è sempre un anno, è sempre un'emozione vedervi, è la distanza, comunque è un'emozione il corpo, il vostro, che si guarda non so se è l'ultimo, la luce che mi va, sarà un'emozione il corpo, il vostro, che si guarda non so se è l'ultimo, la luce che mi va, sarà un'emozione il corpo, il vostro, che si guarda non so se è l'ultimo, la luce che mi va, sarà un'emozione il corpo, il vostro, che si guarda non so se è l'ultimo, la luce che mi va, sarà un'emozione il corpo, il vostro, che si guarda guarda qui, vicino a te, sai che voglio solo a te, quando sento che ci sei, non vivo la vita più che va, sarà un'emozione il corpo, il vostro, che si guarda, è un'emozione, che non mi va, sarà un'emozione il corpo, il vostro, che si guarda, è un'emozione il corpo, il vostro, che si guarda Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!